È un onore e un piacere per Avvilive essere ospiti del CEO di Iaco Group, il dottor Alberto Iacovacci, per parlare dell'espansione di un'azienda che a livello europeo ha ormai conquistato importanti fette di mercato e un brand qualificato di eccellenza italiana. Con Alberto Iacovacci parliamo dei prossimi obiettivi di Iaco Group. Innanzitutto buongiorno, grazie a voi e a tutti coloro che seguono le sorti di Avvilive come utenti e come appassionati. Sì, ormai sono già un bel po' di anni che da oltre 45 anni operiamo in questo settore, nel settore delle premiazioni sportive premium, quindi abbiamo la fortuna e la possibilità di poterci collocare in un ambito estremamente interessante, visto che le nostre collaborazioni e le nostre partner riguardano le principali leghe, non solo italiane ma anche estere, federazioni e organismi di rilievo e di respiro mondiale, quali appunto UEFA, FIFA e quant'altro. Quindi questa scesa dal punto di vista internazionale è iniziata già da 20 anni, da oltre 20 anni, ma negli ultimi 7, 8, 10 anni si sta raccogliendo ancora di più quello che è stato il lavoro poi fatto in precedenza. Ovviamente un applauso e ovviamente per logica il tutto va inquadrato in una situazione di sempre più grande ambizione, ma soprattutto anche quella voglia e quell'elemento che ci ha sempre contraddistinto a livello familiare che è comunque una crescita direttamente proporzionale a quelle che sono ovviamente gli investimenti, ma anche quella famosa parola che non è fino a stessizia, ma che comunque ci ha sempre caratterizzato che l'umiltà è la voglia di metterci sempre in discussione. Quindi un'azienda familiare dove i capostibili insomma sono i miei genitori che hanno creato diciamo il business e che insieme al sottoscritto portano avanti ormai con grande passione e tradizione questa società, questa azienda che peraltro vede impegnate con collaborazioni dirette e indirette decine e decine di persone. Quindi è una grande famiglia che quotidianamente cerca di trasferire le proprie motivazioni nel lavoro che loro fanno e ci permettono poi di essere apprezzati non solo in Italia ma all'estero e in tutto il mondo. Lei ha parlato di grande famiglia, grande famiglia significa anche lavoro di squadra che poi si traduce nella realizzazione di trofei che sono proprio delle opere d'arte che hanno delle caratteristiche definite, uniche nel settore. Sì, parliamo di creazioni uniche che vedono impegnate per giorni, settimane, mesi la creazione sono alcuni esempi, queste sono poi tra quelle più conosciute visto che poi riguardano competizioni seguite da milioni di persone in tutto il mondo quindi qui alle mie spalle ci sono alcune delle nostre produzioni Supercoppa Italiana che come sapete disputa questa gara la vincente della Coppa Italia e quella del campionato e quindi si aggiudica questo trofeo e poi l'altro è la famosa Champions League trofeo ambito da tutti i più grandi atleti che diciamo un po' a coronamento del sogno della propria carriera calcistica quindi sono trofei premium perché sia per le materie prime utilizzate parliamo di metallo prezioso e anche per le tecniche di lavorazione che vengono utilizzate pensi che per la realizzazione di un oggetto del genere dall'inizio alla fine si impiegano oltre due mesi quindi si lascia ben pensare come il prodotto possa essere costruito con una determinata fattura quindi bontà del prodotto, qualità, ricercatezza sono prodotti esclusivi che ovviamente poi vanno ad essere consegnati anche in un ambito estremamente importante la finale di Champions League o altre finali che ci vedono impegnati come fornitore ufficiale ovviamente sono eventi che catalizzano interesse planetario sia a livello dei broadcaster, marketing, merchandising quindi anche l'oggetto finale che corona la vittoria che celebra il simbolo della vittoria deve essere l'altizia di tutto ciò che ripeto stavo dicendo la sua spalla esplende come ha detto la Champions League quest'anno è ambita anche da tre squadre italiane che sono in corsa nei quarti di finale sarebbe davvero fantastico per anche Yaku Group abbinare il suo brand, il suo marchio a una possibile vincitrice italiana diciamo che è una notizia sicuramente un qualcosa che fa bene al calcio proprio nostro italiano perché vedere fra le prime otto squadre d'Europa tre top club è sicuramente un qualcosa che fa piacere perché fa piacere a tutto il movimento calcistico italiano ovviamente noi come fornitori siamo ancora più contenti se diciamo in finale poi dovesse arrivare in italiano e poi diciamo potersela giudicare il trofeo però da professionisti quali siamo ti fiamo diciamo che vinca il migliore ovviamente però è una notizia ripeto che al di là del personalismo al di là della conoscenza che possiamo avere anche col dirigente di un top club piuttosto che dell'altro top club che può essere Napoli, Milan, Inter o altro è proprio una questione di... cioè è un qualcosa che fa bene ripeto all'intero sistema calcio italiano perché è inutile nasconderci in un ambito europeo calcistico purtroppo l'Italia vive un gap che è abbastanza rilevante basti pensare i fatturati dei club che militano nella Premier League e quelli che mettono il campionato di Serie A sono assolutamente diversi e questo ovviamente crea un distacco poi a livello anche di quello che si può tradurre in campo perché mentre un top club inglese o un spagnolo o tedesco ha la possibilità di potersi aggiudicare le prestazioni di top players a livello di come calciatori in Italia è normale che bisogna fare anche in alcuni casi necessità virtù investire su promesse e poi farli diventare campioni quello che sta facendo in maniera egregia è giuntoli e De Laurentiis con Napoli ma lo stesso Milan che comunque insieme a Maldini e il suo staff stanno costruendo un percorso positivo con giocatori già fatti ma intorno con una cornice e dei ragazzi giovani ma che hanno grandi prospettive per quanto riguarda l'Inter è inutile essere lodi dell'amico peraltro personale Beppe Marotta col quale condividiamo tanti momenti gio e piacere anche ovviamente a livello calcistico il quale a mio avviso sta portando avanti con tra virgolette difficoltà una squadra ha difficoltà ovviamente oggettive non perché ci siano mancanze di fondi da parte di Zanga ma perché diciamo sanno tutti i problemi legati insomma al Presidente nel senso che ha avuto delle situazioni lì in Cina che purtroppo gli hanno pregiudicato diciamo il poter immettere capitali freschi e quindi continuare ad investire ma sulle capacità economico finanziarie di Zanga penso non devo stare io qui a dirlo ma si parla di importanti capitali e di importanti patrimoni però purtroppo ci sono a volte dei momenti storici in cui anche grandi proprietà hanno delle difficoltà oggettive legate anche a questioni magari politiche o governative o altre cose detto questo comunque lui è l'autore di un grande miracolo visto che con l'Inter a mio avviso sta facendo non benissimo ma stra benissimo e peraltro anche vincendo trofei quindi arrivando ai quarti di finale e quindi mi auguro che possono far bene tutte ovviamente poi la vincitrice è una quindi che vinca il migliore Cosa prova Alberto Iacovacci in ogni cerimonia finale di qualsiasi competizione calcistica ma non solo Cosa ha provato poi in particolare quando l'Italia ha vinto il campionato europeo con la coppa che è stata realizzata proprio dalla sua azienda È inutile dire che l'emozione da parte mia ma anche da parte dei collaboratori perché si metta nei panni di una persona che contribui da parte nostra ovviamente ogni volta è come se fosse la prima volta peraltro siamo aggiudicatari di questo appalto da lontano 2006 quindi diciamo abbiamo già da un bel po' di anni realizzato questo trofeo e più diciamo più trofei di campionato europeo ovviamente vedendolo consegnato alla nostra nazionale ha un sapore diverso ma anche facendo un discorso un po' più allargato anche i nostri collaboratori, le persone, le maestranze che comunque fanno capo alla nostra società e che collaborano, anche loro hanno una grande emozione perché poi si sentono tutti protagonisti di un sogno cioè chi ama il calcio, chi ama un determinato sport o diciamo è protagonista in una situazione che può dare gioia del genere è normale che ti fa sentire estremamente coinvolto anche se poi gli attori protagonisti ovviamente sottolinearlo sono i calciatori sono loro che ovviamente traducono sul campo uno spettacolo e quindi fanno sì che ciò possa realizzarsi però ripeto dal primo all'ultimo anche nella nostra grande famiglia aziendale a livello emotivo è coinvolto quindi lo vedo anche quando si parla quando saremo su in produzione facciamo delle riunioni abbiamo riunioni con i nostri collaboratori e partner si vede la partecipazione che non è soltanto un mero lavoro che va portato avanti e finisce quindi fino a se stesso si vede un coinvolgimento di una passione che anche quando viene poi l'uscita del prodotto finale quindi viene coccolato cioè sono tutti dei procedimenti delle situazioni che ripeto a livello emotivo vengono trasferite su tutti quelli che sono a mio avviso tutti i protagonisti dal magazziniere alla segretaria organizzativa a chi gestisce la società siamo tutti coinvolti per un unico obiettivo quello di lavorare bene quello di cercare di consolidare perché molto spesso allora io sono per un pensiero allora bisogna crescere però sono più per una crescita mirata quindi sono più per un consolidamento cioè significa che portare avanti un discorso nel corso dei decenni e far sì che questa azienda esista sempre fin quando ovviamente ce ne saranno ovviamente le possibilità normale insomma dal punto di vista anche come presenza fisica perché non è che siamo immortali ovviamente però deve essere comunque perché noi comunque creiamo un qualcosa che ripeto non è fruibile ai più cosa significa non è che io produco una Champions League e la posso vendere al privato da contratti con l'UEFA o con gli altri organismi con i quali noi contrattualizziamo le nostre situazioni è normale che noi forniamo per commessa diretta produciamo non so il Bayern Monaco vince il trofeo e ci ordina delle riproduzioni può essere il Chelsea può essere il Barcellona quindi comunque noi mettiamo sul mercato un prodotto esclusivo ma è una produzione mirata quindi noi cerchiamo sempre di realizzare le cose come se fosse un prodotto unico e finisce lì non pensare di allora migliorarci sempre di più sulla qualità ma sull'allargamento deve essere mirato giusto bisogna crescere pian piano soprattutto quando fai un prodotto ripeto customerizzato e di questa fattura perché non è soltanto un prodotto industriale all'interno delle nostre produzioni abbiamo anche prodotti diciamo che a larga scala vengono diciamo forniti prodotti in migliaia e decine di migliaia di pezzi magari sono fatti di una materia prima diversa richiedono una lavorazione diversa ma quando si va sul customerizzato quando si va su un conio particolare di una medaglia celebrativa importante o di un trofeo del genere o di qualche altra benemerenza insomma o produzione è normale che lì bisogna dare molta attenzione a quella che è la qualità infatti non a caso con noi collaborano le migliori mestranze poi diciamo è questo poi il carattere fondamentale insomma ripeto essere sempre attenti a quello che si mette sul mercato come prodotti fa la differenza a proposito di consolidamento e allargamento dell'azienda abbiamo parlato finora soltanto di eventi legati al mondo del calcio invece Jaco Group ha sottoscritto contratti di partnership con altre federazioni vedi la Fisi l'Unione Europea di Ciclismo c'è un allargamento del mercato che sicuramente permetterà nei prossimi anni un'ulteriore base per far affermare anche il vostro brand e la vostra firma guardi è già nelle nostre corde un bel po' di anni perché quando fu fondata l'attività l'azienda nel lontano 78 dai miei genitori il settore di riferimento era il calcio poi diciamo c'è stata un po' la consagrazione con i mondiali del 90 che diciamo mio padre e quindi i miei genitori furono impegnati in grandi lavori e ovviamente insomma un mondiale che si svolge nella propria nazione l'azienda aveva circa 12 anni di attività diciamo da lì un po' parte tutto poi c'è stato USA 94 Francia 98 fornitore ufficiale della federazione e poi via discorrendo diciamo il calcio era sempre rappresentato all'interno dei nostri affari il core business quindi l'aspetto principale però poi nel corso degli anni diciamo abbiamo allargato gli orizzonti anche ad altri sport attività ma anche enti governativi diciamo presidenza del consiglio dei ministri oppure grosse aziende farmaceutiche che MotoGP in Italia e poi le chicche sono state nel corso degli ultimi 15 anni l'aver stretto una grande collaborazione siamo fornitori ufficiali quindi partner sia fornitori che sponsor anche di una federazione importantissima che è la FISI creazione sport invernali quindi tutto ciò che viene tradotto su neve cioè tutto ciò che si svolge su neve su ghiaccio eccetera quindi diciamo la nostra azienda è fornitrice di tutti i nostri prodotti quindi dei prodotti che noi mettiamo sul mercato e anche lì celebriamo i simboli della vittoria quindi sport invernali poi basket ma soprattutto in modo particolare negli ultimi tempi quindi questioni di pochissimi di pochi giorni fa abbiamo chiuso un accordo con l'UEC che sarebbe l'organismo internazionale della federazione del ciclismo con sede a Lausanne dove abbiamo ci siamo aggiudicati la produzione per quello che concerne il medagliere quindi medaglie oro argento bronzo e quindi anche lì premeremo i vincenti e staremo al fianco di questo importante organismo quindi diciamo si differisce il calcio rappresenta con comunque ripeto l'elemento essenziale ma non è l'unico quindi questo rappresenta una grande crescita per tutti noi perché comunque settorializzarsi ti fa crescere fino a un certo punto ma allargare gli orizzonti ti permette anche di stringere importanti conoscenze e collaborazioni in ambiti differenti ma altrettanto stimolanti e ovviamente importanti l'acogruppo si estende con la sua azienda e sviluppa il suo operato attraverso le tre sedi due in Italia e una in Svizzera Avellino e Vicenza e poi un'altra in Svizzera ma Alberto Iacovacci non ha mai tagliato il cordone umbilicale con la città di Avellino e approfitto del suo appuntamento della sua disponibilità anche per parlare del suo rapporto con la città di Avellino come lo vive e che idea si è fatta del capoluogo irpino allora io penso che ogni persona ogni essere umano deve avere le radici in un posto è come un albero no? si possono avere allora più contatti in più posti ma le radici sono uniche esclusive quindi dal punto di vista societario la sede legale amministrativa comunque è ormai da sempre fissata nel capoluogo irpino quindi Avellino poi Vicenza per questioni di opportunismo lavorativo logistico e anche per peculiarità lavorative in quell'ambito lì perché Vicenza comunque è un famoso distretto orafo quindi famoso nel mondo infatti c'è anche la famosa fiera annuale Vicenza oro è un famoso distretto importante per la produzione e lavorazione dei metalli preziosi quindi ovviamente è stata una scelta da parte della mia famiglia investire su persone sul territorio veneto e portare avanti questo tipo di discorso quindi non è stata una delocalizzazione è stata sempre una scelta lì dall'inizio quindi gli uffici qui dove si gestisce e poi il muoversi in continuazione sia diciamo presso i nostri clienti in giro per il mondo sia per quanto riguarda diciamo la location produttiva e le varie partner che abbiamo lì sul territorio perché anche concentrare una produzione in un fazzoletto quindi nell'arco di 30-40 chilometri tutta la filiera dà anche una maggiore facilità nel poter controllare il prodotto sì se a mille chilometri di stanza ma siamo ormai abituati è sempre stato così ripeto perché non è una delocalizzazione per me è una scelta che risale oltre 40 anni fa quindi per noi è normale e quindi nel distretto di Vicenza e nei dintorni una scelta strategica sì esatto quindi diciamo tutte le maestranze sono diciamo lì collocate e ovviamente ripeto per questioni anche proprio di preparazione delle persone che ci collaborano in quella determinata fattispecie lavorativa quindi sono proprio famose specializzati in quel tipo di produzione e beh Lugano perché poi negli ultimi anni quindi abbiamo una sede a presenza anche lì avendo stretto numerosi rapporti anche in Svizzera e peraltro anche dovuto alla vicinanza con Milano perché comunque siamo a pochi passi abbiamo diciamo pensato anche di aprire una diciamo siamo lì presenti e quindi dove incontriamo persone dove abbiamo la possibilità anche di ricevere persone insomma che magari per opportunismo logistico o altro decidono di incontrarci ecco lì quindi ci sono queste tre situazioni che comunque propedeutiche collegate tra di loro ma le radici come diceva Lepoca anzi comunque sono qui e questa è un qualcosa di naturale non è neanche una scelta cioè è avvenuta così ed è stata così e credo resterà sempre così quindi avere la sede in questa città come Iago Group per noi è qualcosa di normale e ripeto dal mio canto credo che sia una comunità e un centro piccolo con le difficoltà e con dei pregi con cose negative che possono riguardare tante altre città in Italia e nel mondo sicuramente per come piccola a mio avviso lo dico insomma così da spettatore esterno potrebbe come in ogni posto insomma perché poi l'essere critico voglio dire è un qualcosa importante che non si è mai troppo critici per distruggere o demolire le persone che lì sono contrario a questo però se si parla di critica nell'ottica di una di una evoluzione e di un miglioramento credo che sia cosa ben fatta ci sono tante cose sulle quali si potrebbe migliorare però ovviamente io sono un imprenditore non mi occupo di politica avremmo sulla carta persone deputate a fare questo e sicuramente mi auguro che possano portare avanti con la diligenza del buon padre di famiglia avanti anche un discorso politico sicuramente gli ultimi accadimenti sono da alcuni giorni rientrato da alcuni viaggi di lavoro sicuramente gli ultimi accadimenti ripeto da spettatore esterno insomma notavo che c'erano state un po' di problematiche legate alla società che si occupa anche di smaltimento rifiuto eccetera non entro nella polemica politica perché non mi riguarda o altro a cui pensare quindi insomma non mi riguarda però sicuramente una cosa la voglio dire a prescindere a prescindere mi stringo al fianco insomma di coloro che ovviamente protestano nel senso che ma non è una questione di parti o non parti assolutamente è solo per solidarietà insomma da imprenditore sono sempre molto vicino ai miei collaboratori e quindi in questo caso ovviamente il mio spicio da spettatore esterno è che ovviamente non ci siano ripercussioni su di loro che nessuno perde il posto di lavoro perché ognuno di loro come tutti noi hanno degli impegni economico finanziari economici finanziari a fine mese quindi gestioni da portare avanti familiare quindi non sarebbe sicuramente dopo due anni di pandemia cosa ben gradita l'eventuale perdita di un posto di lavoro ma mi auguro e non credo che ci sarà insomma solo questo qui poi al di là del disservizio che è noto che avendo poi gli uffici sul corso affacciandomi certo non è che è un biglietto da visita un gran biglietto da visita vedere delle cose così buttate un po' a casaccio per strada però il pensiero va sicuramente a questi lavoratori e l'alpice è che non ci siano ripercussioni su di loro restiamo in una città ma passiamo in un altro ambito quella dell'US Avellino non so se lei sta seguendo le sorti della squadra bianco verde che idea si è fatta del cammino della squadra di Rastelli è deluso amareggiato come tifosi per i risultati se aspettavo qualcosa in più guarda io da alcuni anni non ne faccio più parte sapete benissimo perché ci siamo conosciuti diciamo un bel po' di anni fa e con la mia famiglia abbiamo investito fino ad arrivare da una piccola quota iniziale fino a diventare soci di maggioranza del Grepe Irpino abbiamo con tanto sacrificio portato avanti con la mia famiglia un discorso importante c'erano anche altre persone all'interno della società però mi consenta di dire che insomma poi ovviamente parlano i fatti il contributo maggiore ma in silenzio è stato dato diciamo dal sottoscritto da mio padre e da mia madre insomma i quali loro ovviamente dal punto di vista dell'investimento finanziario estremamente rilevante e io come amministratore del club Irpino abbiamo raggiunto eccellenti risultati ovviamente all'occhio di tutti e soprattutto la cosa che più mi fa piacere anche se a distanza di anni molti hanno poi riconosciuto le nostre le nostre non che ne avessi bisogno non lo dico per presunzione mi consenta ma solo perché sono sicuro sempre consapevole del quando io si sa che si agisce con onestà e con ripeto utilizzo sempre questa frase no la digenza è bombata di famiglia io sto sempre con la coscienza a posto poi posso sbagliare o meno però quello è chi non fa nulla non sbaglia però quando tu fai qualcosa ma lo fai sempre con onestà sai che comunque puoi avere la coscienza a posto quindi abbiamo investito avendo la coscienza a posto abbiamo investito i nostri soldi e la gente ancora a distanza di anni percepisce questa cosa ed è contenta a volte vedi qualcuno insomma quando quelle poche volte mi trovo qui in città ti fai una chiacchiera prendi un caffè insomma questa è una cosa che è inutile nasconderci dietro un dito fa estremamente piacere perché di solito quando un presidente va via da una squadra di calcio un proprietario un patrono un dirigente o nella maggior parte dei casi non sempre o perché la società fallisce o perché magari ha finito tutti i soldi che diciamo finisce sotto un ponte quindi nel nostro caso non è accaduto nessuna delle due situazioni tragiche fortunatamente ma perché siamo persone che ovviamente usiamo una logica e una coerenza nel fare le cose stringendo l'attenzione il cerchio quindi l'attenzione sulla domanda che mi poneva dico che non è mai facile fare calcio a prescindere nulla nella vita soprattutto discorsi importanti fare calcio è ancora più difficile farlo nella propria città è ancora più difficile tutto quello che sto dicendo però vuoi diciamo che il nostro settore è di pertinenza come famiglia vuoi una serie di concause vuoi perché il calcio è fatto anche di fattori di situazioni non sempre i miei risultati sono riproducibili nel corso degli anni però insomma è avvenuto quello che doveva avvenire quindi siamo in serie B eccetera e poi delle situazioni che purtroppo sono accadute ma che non mi va di parlarne in questa serie perché sono oggetto ancora di diciamo di di contenziosi con determinati protagonisti che sono stati coinvolti comunque insomma facciamo una scelta di disinvestire però comunque sicuramente siamo usciti a testa altissimo visto che abbiamo consegnato poi alla città una squadra in serie B con un credito anche di una certa rilevanza a livello economico finanziario quindi per quanto riguarda i sottoscritti io ovviamente non do consigli uno perché non mi vengono chiesti ma personalmente non do consigli io faccio un industriale un imprenditore quindi tipo di certezze faccio il mio lavoro testa bassa e pedalare ovviamente hai ricevuto chiamate da D'Agostino allora guardi non mi piace entrare non voglio entrare nello specifico però sicuramente persone che possono orbitare intorno magari al presidente vuoi per una cosa o per un'altra magari chiedevano una collaborazione o qualcosa però allora io faccio proprio un breve inciso ma non è un discorso di facciata perché chi mi conosce bene sa che non dico mai le cose tanto per da tifuso il mio unico augurio è che innanzitutto si concluda questa stagione nella maniera più indolore possibile perché comunque gli investimenti a meno da quello che si vede sono stati fatti insomma voglio dire non è che hanno lesinato poi dal punto di vista organizzativo meno non aspetta a me parlare perché io gestisco e mi auguro e credo bene le mie attività ma figuriamoci se mi metto a parlare dell'attività degli altri purtroppo quando si fa il calcio si deve mettere conto che un po' tutti no parlano perché ripeto è pursi un'azienda privata ma alla fine dal punto di vista degli investimenti però purtroppo per fortuna anzi perché sui tifosi qua il motore del sistema calcio alla fine si è un po' sotto bersaglio in maniera positiva o negativa dai tifosi insomma perché è giusto che sia così comunque come i calciatori i tifosi sono gli attori protagonisti perché parliamoci chiaro le proprietà sono di passaggio i presidenti vanno e vengono è difficile trovare un presidente che è eterno o una proprietà eterna l'auspice è che da difuso perché comunque la seguo con una maggiore leggerezza è normale con minor coinvolgimento ti fa piacere magari chiedi il risultato se posso vedo una partita in televisione però è normale che ti dispiace se le sorti del club calcistico della tua città non sono quelle diciamo che potrebbero rifarsi ad una ad una tradizione ad una storia se perde non male che mi dispiace però non è che mi taglio una mano voglio dire è normale si pensa alla prossima partita e si cerca di togliere o eliminare qualche scoria negativa della settimana della negatività della domenica si riprende e si riprende appunto con la prossima partita dei giorni successivi il discorso è il seguente ripeto non è mai facile fare calcio nella tua città ci sono tante difficoltà non è soltanto un discorso di investimenti perché la forbice non è che se si allarga verso la parte degli investimenti poi si allarga pure verso i successi non sempre sicuramente qualche chance in più noto col Catanzaro ha messo ha tradotto sul campo mediante i suoi investimenti è una squadra che definire la squadra forse riduttivo è un'armata cioè un gruppo spaventoso dal punto di vista in maniera positiva ovviamente tecnico tattico tutto sicuramente rispetto a chi investe qualcosa di meno lui ha qualche chance in più però non sempre diciamo poi la proporzione acquista quindi un mio pensiero ma che non è un consiglio perché io non do consigli a nessuno credo che bisogna riflettere realmente su quello che è l'obiettivo e su quello che si vuol fare perché io credo beh anzitutto e penso che nelle corde della proprietà pensare a un investimento che sia legato a un ciclo di 3, 4, 5 anni perché non pensa che uno prende una squadra di calcio e vede soltanto a un metro no? programmazione programmazione quindi se fai degli investimenti soprattutto quando trattasi di cifre come valese alla proprietà di sentivo dire che ha investito 20 milioni euro insomma beh lo sanno loro perché personalmente insomma io posso parlare dei miei conti societali poi ognuno sa quello che immette in un proprio in un proprio asset però ripeto se queste sono le cifre è normale che che brucia doppio soprattutto per loro perché metti soldi non consegono risultati eccellenti e alla fine ti vedi pure le critiche giustificate in questo caso da parte dei tifosi sicuramente devono devono riflettere devono riflettere da ex diciamo dirigente proprietario di questo club mi permetto di dire che la prima cosa che devono fare nel momento in cui si concluderà il campionato è di riflettere su quello che realmente vogliono portare avanti come discorso perché il volere e il potere sono due cose che devono andare a braccetto e poi anche sui cavalli di ritorno voglio dire insomma trovano il tempo che trovano nel senso che mi riconferisco alle varie figure sono figure che magari possono far bene altre meno bene però bisogna anche evolversi e pensare anche a qualcosa di diverso tra l'altro in questo Avellino ci sono figure che hanno lavorato anche nel io ce l'ho venuto come dipendenti però ho avuto un ottimo rapporto con tutti peraltro se proprio a lei feci un augurio in modo particolare a Enzo quando Enzo ritornò ad Avellino Enzo va bene lo conosco da anni Enzo De Vito diciamo non è che lo conoscevo già dai tempi quando collaborava con società precedenti nel settore giovanile che lui si occupava in maniera brillante della primavera abbiamo collaborato insieme un bel po' di anni anche bene vincendo quindi però poi ripeto le cose però non si costruiscono a caso comunque ogni ruolo era ben definito quindi lui svolgeva il proprio ruolo l'altro mio socio di minoranza svolgeva un altro ruolo io avevo il mio ruolo mettevo insieme alla famiglia di posizione le nostre conoscenze perché lavorando nel settore calcio a livelli che diciamo lei insomma conosce e i più conoscono voglio dire a me avere un appuntamento o riunirmi con un amministratore delegato di un club di categoria superiore di serie A o anche altri campionati estri non rappresenta una difficoltà perché con loro già ho instaurato discorsi professionali aziendali lavorativi in un ambito diverso ma tutti gli ambiti quando l'amicizia è unica si intersecano quindi non è che c'è questa grande difficoltà parliamo di una cosa di un'altra si fa tutto gli affari si fanno così non è un problema cioè mettere insieme è importante avere allora non tutti quelli che si approcciano al calcio devono essere persone già navigate come noi che lavoriamo in quest'ambito da tantissimi decenni ci sono tanti neofili che si approcciano a questo mondo e ovviamente vicino poi cercano di avvalersi di capacità professionali che comunque siano ruotate in quel settore e che abbiano comunque una spiccata capacità di voler e di poter portare avanti dei discorsi in maniera come dire vincenti vincenti per quanto più possibile vincenti perché poi non è facile non è che sia la bacchetta magica però ripeto e neanche volte bisogna pensare i nomi per esempio il Napolino facciamo un esempio pochi chilometri da casa nostra qui da Avellino voglio dire quando è ingaggiato Giuntoli veniva da campionati eccellenti ma col Carpi nulla togliendo al Carpi sono stati autori di un grande miracolo calcistico però Giuntoli non era il top player degli amministrati delegati o dei direttori generali della serie A era un ottimo dirigente che si stava formando e che poi ha visto un De Laurentiis su quale poi De Laurentiis ha investito su di lui professionalmente e sono cresciuti insieme e ha creato un ciclo ripeto non è facile non è facile fare calcio in generale però è possibile commettere meno errori possibili Un'ultima domanda torno all'aspetto legato alla Iaco Group al carattere dell'umiltà a cui ho fatto il riferimento c'è un sogno nel cassetto di Alberto Iacovacci per la sua azienda? Guardi il sogno è il prossimo io questa è la mia mentalità nel momento in cui mi aggiudico e ci aggiudichiamo un appalto o mettiamo nero su bianco quindi con un contrattualizziamo un'altra un'altra commessa un altro ordine diciamo rilevante o meno a prescindere io penso già al prossimo obiettivo quindi se mi dice qual è il sogno è il prossimo quindi significa il volersi migliorare cercando con una crescita direttamente proporzionale a quella che è la capacità di investimenti quindi senza volipindarci diciamo il volare basso quindi senza esaltazioni o morale up and down quindi in maniera concreta realistica consolidarsi e quindi il sogno mio è il prossimo quindi quello che dovrà ancora realizzarsi sicuramente ci sono e ci saranno ma è quello del consolidarci grazie per la sua disponibilità ad mai ora da parte nostra grazie 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 a tutti voi grazie a tutti